Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessilan News. Se siete alla ricerca di un filato 100% cotone che renda le vostre creazioni eleganti ed uniche, con un tocco di colore in più, abbiamo il filato che fa per voi. Si tratta del Donny Twid. Ecco qui il nostro Donny Twid, un gomitolo di cotone multicolor composto al 100% da cotone. Il peso è di 100 grammi per una lunghezza di 250 metri all'incirca. Gli uncinetti consigliati sono quelli dal numero 3 al numero 4, mentre per i ferri consigliamo quelli dal 4 al 5. Per quanto riguarda le istruzioni per il lavaggio, consigliamo sempre un lavaggio a mano ad una temperatura che non superi i 30 gradi. È possibile utilizzare tutti i solventi neutri, eccezione fatta per il tetracloretilene. Sconsigliamo inoltre il candeggio. È possibile stirare ad una temperatura che non superi i 110 gradi. Le colorazioni disponibili per questo filato sono diverse, scopriamole insieme. Nella colorazione glicine troviamo dei punti di colore, come il petrolio e il magenta, quindi delle colorazioni a contrasto ma che ben si abbinano con questa colorazione. Passiamo alla colorazione rosa. Qui la sfumatura parte da un rosa più vivido fino a scemare in un rosa pallido. Le macchie di colore sono sui toni dell'arancio e del blu. Per la colorazione prato passiamo da un verde più intenso fino ad arrivare ad un verde più brillante. Qui il colore incastonato nella sfumatura è l'arancio, il marrone ma anche il petrolio. Per il colore cielo abbiamo una bellissima sfumatura di toni del celeste, partendo da una colorazione più scura che va via via schiarendosi. Qui le macchie di colore sono sul verde, il turchese e una sfumatura leggermente più chiara. Per il colore casual abbiamo varie sfumature del beige, quindi partiamo da una colorazione un po' più vivida fino ad arrivare alla sabbia. Qui i punti di colore che vediamo inseriti sono sul verde e sul labio. E per concludere abbiamo il magenta. Anche qui il colore va sfumandosi. Qui troviamo dei contrasti di colore, antracite e marrone. Come abbiamo visto quindi il Dorni si arricchisce della linea tweed. Diverse sfumature di colore ottenute con questa particolare lavorazione. Su un filato infatti a sfumatura lunga vengono applicati questi punti di colore, che sono stati appositamente creati dal nostro team creativo Tessiland, che ha studiato quali potessero essere i punti di colore che più si abbinassero alle varie sfumature. Lavorazione molto elegante, davvero chic, perfetta magari anche per la creazione di una stola, di cardigan, perfetti per le serate più fresche ed estive, ma anche perfette per i capi di mezza stagione, trattandosi di un prodotto 100% cotone. Ovviamente anche questo filato è made in Italy, prodotto con fibre naturali e biodegradabili, che Tessiland segue durante tutto il processo di lavorazione. Grazie quindi a questa particolare lavorazione, il tweed, che ho ottenuto proprio grazie all'incastro di più colori, il risultato finale delle vostre creazioni sarà davvero unico, elegante e raffinato. Attendiamo quindi di vedere tutte quelle che saranno le vostre creazioni. Nel mentre vi ricordo di attivare la campanella, iscrivervi al nostro canale YouTube, ma di seguirci anche su tutti i nostri canali social, la pagina Facebook MediodiMaglia, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog, dove potrete trovare sempre degli articoli per soddisfare le vostre piccole curiosità. Al prossimo Tessila News!